Don Rocco D'Ambrosio, ordinario di filosofia politica dell'Università Gregoriana di Roma. Questa sera in questa conferenza abbiamo commentato quello che è stato il messaggio di Papa Francesco, ma in realtà quando conta il conflitto tra Stati? Conta molto perché oggi la globalizzazione ci spiega come i problemi politici sono interconnessi. La battuta è che se uno fa uno starnuto a Parigi si può avere un uragano a Tokyo. Non è solo una battuta, ci sono elementi che viaggiano per il mondo. Se noi pensiamo al flusso di gente, il flusso dei migranti dipende da situazioni di povertà, di mancanza di libertà, di guerra e la gente si sposta e va in altri paesi dove crede, si augura di stare meglio. I problemi sono interconnessi e questo ci porta, come il Papa ricorda spesso anche in questo messaggio, al fatto che i politici locali e nazionali devono dialogare con gli altri politici. Come si dice per il problema dell'emigrazione, non è possibile che lo risolva solo l'Italia, lo deve risolvere. Lo deve affrontare tutta l'Europa e anche praticamente senza buone promesse solo. Hai parlato di preda, perché la politica è diventata una preda? È diventata una preda perché noi non abbiamo più una classe politica che ha dei requisiti, e spiego quali. Una maturità umana, una maturità etica e una competenza professionale. Quando si abbassano queste tre cose, la maturità umana, la capacità umana, quella etica, cioè i principi in cui una persona crede e attua, e la competenza insomma diventa un pollaio. Uno si alza la mattina, dice una cosa, un altro dice un'altra, si litiga, eccetera, e si cerca di appropriarsi in maniera non corretta della politica, degli spazi politici. Quindi dovremmo ritornare a fare formazione anche dei politici, non solo dei cittadini. Come conciliare le idee di politica e le idee di religione, di fede? Ma come conciliarli? La storia insegna che i cristiani impegnati, una volta come oggi in politica, sanno bene che quello in cui credono si realizzerà pienamente nel regno di Dio, in paradiso, diciamo noi. Intanto noi, come insegna il Concilio, ci impegniamo a fare in modo che la realtà umana somigli sempre più al regno di Dio, no? Come diciamo nel Padre Nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo, come si fa in terra. Cioè si faccia in terra così come si fa in cielo. Così è per la politica. Noi lavoriamo come cristiani perché le cose della politica somiglino un po' di più alla volontà di Dio. La definizione di pace? Non è certamente quella romana, cioè l'assenza della guerra. Nella Bibbia la pace è la pienezza che io porto dentro e la pienezza dei rapporti. Tant'è vero che in tutti i contesti orientali e medio orientali il saluto è shalom o salam, come dicono i musulmani. Cioè io ti auguro pienezza di vita, la auguro a te, la auguro a me, ma la auguro anche tra di noi. Questa è la pace, la pienezza di vita dentro e nelle relazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.